Buonasera e ben ritrovati a tutti voi da intorno alle 9. Apertura serale fino a mezzanotte con accesso al costo simbolico di un euro. È l'iniziativa speciale che torna in occasione della Notte dei Musei domani sera sabato 13 maggio e quindi una bella occasione per tutti per conoscere il nostro patrimonio artistico straordinario e di grande bellezza. Parliamo di tutto questo e molto altro con il nostro ospite, l'assessore alla cultura del Comune di Prato Simone Mangani. Buonasera. Buonasera a voi. Torna questa bella iniziativa, assessore, aderiscono tantissime istituzioni culturali della nostra città, Centropecci, Museo del Tessuto, Museo dell'Opera del Duomo, solo per citarne alcuni. Ecco, perché partecipare? Partiamo da qui. Innanzitutto perché è un'iniziativa che coinvolge tutta Europa, non soltanto il nostro paese, non soltanto la Toscana, non soltanto Prato. La Notte dei Musei, il 13 maggio, sarà una fioritura in tutta Italia e noi abbiamo deciso, visto che è un'iniziativa patrocinata dal Consiglio d'Europa, da ICOM e da molte istituzioni internazionali, noi abbiamo deciso di chiedere ai nostri musei di rimanere aperti dalle 21 alle 24, chiedendo uno sforzo anche alle persone che ci lavorano, perché è un appuntamento che coinvolge tutti. Ci sembrava un'occasione più unica che rara, per riconnettersi nuovamente con il patrimonio. Quindi tutte le istituzioni di cui lei ha parlato, più altre, ora lo diremmo, faccio un elenco, chiedo scusa ma assieme al Centropecci ci sarà il Museo del Tessuto, dove è stata inaugurata la mostra Kimono, poche settimane fa, il Museo dell'Opera del Duomo, come stava dicendo, il Museo di Palazzo Pretorio e poi ancora il Museo di Scienze Planetaria, che sarà a sua volta aperto e ci saranno, oltre agli ingressi a un euro, anche tre ingressi straordinari, tre aperture straordinarie di altre tre istituzioni fondamentali per la città ad ingresso gratuito. Due hanno sede dentro Palazzo Latini e sono per appunto Casa Latini e l'Archivio di Stato, è un luogo straordinario che detiene il patrimonio di Francesco di Marco Latini, tutte le lettere tra Margherita e Francesco, tra le mille, mille altre cose, e Palazzo Latini è un passo da Palazzo Pretorio, è un passo da Piazza del Comune. Oltre a questo anche Galleria degli Alberti ha aderito all'iniziativa, la nostra richiesta è proposta e sarà aperta a sua volta all'ingresso gratuito, quindi Caravaggio, Lippi, il Seccenetto Fiorentino e la meravigliosa crocifissione del Bellini. Come reagiscono sempre le persone a queste iniziative straordinarie per l'appunto? Direi che reagiscono molto bene, noi proviamo a lavorare con continuità, a dare continuità all'offerta, a rinnovare anche il modo in cui rendere accessibili i nostri musei, i nostri luoghi della cultura, ma tutte le volte che c'è la possibilità di un ingresso straordinario, e le persone rispondono. Lo scorso fine settimana ci sono stati 2000 ingressi al centro Pecci, in tutto il fine settimana, per l'inaugurazione, la stiamo vedendo in questi momenti dell'arrestimento della collezione, e questo vuol dire che c'è anche un senso di attesa. E si sta cominciando ad avere un'abitudine, è quella di tornare nei musei, anche indipendentemente dalle mostre, la mostra di Palazzo Pretorio inaugurerà la nuova mostra domenica, quindi sabato sera non ci sarà questa occasione, ma ci sarà un'occasione comunque straordinaria di accedere sulla terrazza del palazzo e quindi vedere tutta la città. È una risposta direi sempre positiva. Questo progetto prevede una forte sinergia tra le varie istituzioni culturali della nostra città, una sinergia che prosegue, e le chiedo come, anche nell'ottica di favorire la permanenza dei flussi turistici sul nostro territorio, che è l'altra grande sfida poi. Io credo che tantissime persone verranno da fuori Prato a scogliere questa occasione, perché avere sostanzialmente tutti i musei aperti in una città è comunque un'occasione di festa. Il centro storico della città, il fine settimana, è estremamente pieno, denso, anche troppo, secondo alcune, di vita e di persone, di occasione di incontro, di scambio con tutta l'attività del commercio, dei locali notturni, della ristorazione che è fiorita nel corso degli ultimi anni e quindi verranno anche da fuori. Come si rende possibile lavorare assieme? Facendolo con continuità, a volte anche con dei momenti di dialettica, ma la rete museale e le rete museali pratesi sono estremamente forti, solide. Questa iniziativa nasce da Prato Musei, ma si è poi allargata da altre istituzioni che di Prato Musei non fanno parte, a partire dalla Galleria degli Alberti. E quindi questo dimostra davvero anche il senso di collaborazione reciproca. Ecco, Centro Pecci, con l'ingresso a un euro si potrà visitare anche la nuova collezione permanente inaugurata qualche giorno fa, dal titolo Eccentrica, ricordiamo una selezione di una cinquantina circa di opere del vasto patrimonio del Centro Pecci. Ecco, c'era bisogno di questa operazione coraggiosa? Molte persone che abbiamo anche intervistato credono fortemente in questo tipo di operazione che è stata fatta. C'era assolutamente bisogno che la collezione del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci fosse allestita in modo permanente perché è un patrimonio cittadino, è un patrimonio fatto non soltanto dalla parte pubblica, non soltanto del Comune di Prato, della Regione Toscana, ma anche dei soci fondatori dell'associazione Pecci, della famiglia Pecci in particolar modo, ma anche della fondazione Cassa di Risparmio, quindi tutto un altro pezzo di città che ha contribuito, o della donazione Carlo Palli, tutto un altro pezzo di città che ha contribuito alla costruzione di questo patrimonio. e siccome ci sono dei capolavori straordinari da Andy Warhol a Fontana, a Boetti, a Conci, a Chiara Fumai, a Anish Kapoor, a Gina Gnabel, a Gerard Richter, era impossibile non avere una collezione allestita. L'allestimento di forma fantasma, che già duemila persone l'hanno visto lo scorso fine settimana, poi rinnova completamente anche l'edificio di Morisnio, la grande anello che abbraccia il Centro Pecci, è uno sguardo completamente diverso. Chi è stato al Centro Pecci prima di questo allestimento stentenare conosce una parte del museo, ma poi sarà possibile nella stessa serata del 21, del 13, vedere anche la mostra di fotografia di Lina Pallotta, una fotografa straordinaria che ha attraversato gli ultimi 50 anni della nostra storia. In più, proprio al Centro Pecci, la sera dei musei, domani sera sarà possibile anche avere una visita guidata, quella però su prenotazione fuori dal canone dell'Euro. Assolutamente sì, tra l'altro, al di là dei musei, queste sono giornate anche dense di appuntamenti per quanto riguarda i concerti, perché fermano davvero tante iniziative in centro storico, ma non solo. Io, appena finiamo questa trasmissione, corro al Teatro Cicognini, perché alle ore 21 è iniziato l'ultimo concerto dei concerti di primavera della Scuola di Musica Verdi e della Camerata Strumentale, c'è un quartetto meraviglioso, un quartetto ametista di quattro giovani musiciste già assolutamente in carriera all'interno del Teatro D'Annunzio, dentro il Collegio Cicognini e vi assicuro che vale la pena. Il 16, invece, il 16 prossimo al Teatro Politeana, la sera sarà possibile ascoltare il concerto finale esattamente della Scuola di Musica Verdi, un appuntamento fisso che coinvolge tutti gli assieme, tutti gli ensemble della musica d'assieme, quella appunto della Scuola di Musica, da quella di Riccardo Galardini a quella del Maestro Facchini, faccio torto a qualcuno perché mi dimentico di altri, che caratterizzano l'offerta formativa della Scuola che coinvolge oltre 700 alunni e alunne, e quindi oltre 700 famiglie. Uno sguardo alla Prato Estate, che Prato Estate sarà? Saranno Prato Estate che si gioverà della collaborazione di tanti soggetti, abbiamo finito anche il secondo avviso, il primo era uscito, il secondo avviso pubblico, il primo era uscito un mesetto e mezzo fa, e ora abbiamo il quadro sostanzialmente completo, torneranno appuntamenti a cui le persone si sono ormai affezionate, penso al Monteferrato Festival, penso all'organizzato del collettivo Ferro 26, penso all'Oftoon a Officina dopo la prima edizione dell'anno scorso, e poi gli appuntamenti si concentreranno anche in San Domenico. C'è un'anticipazione perché a giugno, 14 di giugno, 12 di giugno alle 14, inizia Prato Estate in un luogo insolito, ma che in realtà Prato Estate frequenta da tanto tempo, che è il carcere, con un concerto di Alessandro Fiori assieme al Metro Popolare, ci è sembrato giusto poter tornare, ora lo possiamo fare, a fare uno spettacolo anche in quel luogo lì, ma poi le occasioni si sprecheranno, saranno numerose nel corso del mese di giugno, luglio, e anche in parte nel mese di agosto. Arriviamo al termine quasi della nostra puntata, allora diamo uno sguardo anche al dopo, estate, al settembre, cosa ci riserverà quest'anno questa edizione, sono già state annunciate ovviamente le date dei concerti, che settembre sarà? Come l'avete pensato? Sarà una edizione, secondo me, popolare, perché i nomi, in senso positivissimo, perché i nomi che sono stati messi assieme per il cartellone, gli artisti e le artiste che sono stati messi assieme per il cartellone, sono assolutamente nel cuore di moltissimi di noi, da Bennato a Silvestri, poi all'articolo 31, o al nostro, mi permetto di dire, Giorgio Panariello, quindi sarà un'occasione per ritrovarsi, anche per incontrarsi, le prevendite, mi dicono, da Fondria Cutarte, stanno andando già abbastanza bene, ma mi faccio a chiudere la trasmissione, se è possibile, con un appuntamento invece brevissimo, perché il 22 e il 29 di maggio, quindi tra pochi giorni, assieme alla famiglia di Francesco Nuti, assieme a Giovanni Nuti, e al Cinema Eden, faremo due proiezioni dedicate al compilano di Francesco Nuti, che è caro il 17 di maggio, e proietteremo Caruso Pascoschi, il 22 e il 29, un capolavoro che è stato anche sfortunato, che è Occhio Pinocchio, per un artista, anzi per una famiglia, un contesto di artisti, che la nostra città ha saputo esprimere, che tutt'oggi ama tantissimo. Bene, grazie, grazie davvero all'assessore alla cultura Simone Mangani, grazie a tutti voi per averci seguito, intorno alle 9, torna come di consueto martedì sera, dopo il nostro TG, una buona serata, arrivederci sulla nostra rete, arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.